musica hi guys qua jerry benvenuti in questo nuovo video su minecraft oggi ci troviamo di nuovo sulla jerrycraft perfetto allora ho fatto alcune modifiche al mondo al mondo porca miseria al mondo alla casa ok le modifiche che ho fatto sono state questi vetri il pavimento in goblestone poi vabbè un po' di torce che non mi ricordo se l'avevo già fatta però va bene il tavolino che non serviva un cazzo però visto che la casa era tipo una merda senza niente ho deciso di mettere il tavolino allora abbiamo un'altra news per questa serie adesso abbiamo inserito le shaders ragazzi guardate che figata è completamente tutto diverso la grafita cambia pure l'acqua però questo fiumicello fiumicello fiumiciattolo questo rumorino quanto mi sta sul cazzo non cambia una minchia però vedete più o meno l'acqua che cambia si dovrebbe vedere si 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 vede spero quindi allora in questo episodio cosa andremo a cambiare allora faremo prima di tutto ho toppato alcune entrate nella caverna cioè per i mostri praticamente off camera adesso vi faccio vedere velocemente guardate qui e quindi qua a parte questi mostri qua che non gliene frega un cazzo del lavoro che ho fatto ho toppato di due praticamente tutte le entrate che potrebbero passare mob e ho messo un po' di torce che non servono a un cazzo sinceramente qui però per ora va bene perché era una barriera una piccola basetta e in più ho trovato del ferro quindi andremo prima in questo episodio prima di andare a modificare un po' la casa metterla a posto passeremo a intanto questi bug sai queste shaders però non importa a modificare un po' cazzo sto dicendo passeremo a togliere un po' questo ferro cioè a prenderlo quindi prendiamo l'iron e poi dopo passiamo alla casa quindi ragazzi perfetto allora incominciamo prendendo un piccone non so se l'ho già fatto si è una mezza cagata quindi proporrei di farne un altro quindi prendiamo le assi io ne prendo pure altre precauzione poi questo qua magari lo possiamo già usare quindi mettiamo già questo coso qua poi dopo e sono un coglione perché prima devo fare altri stick mettiamo questo qua qui vabbè già quattro quindi non serve mettere pure l'altro mettiamo questi due e poi dopo non abbiamo la gobblestone fan culo il mondo allora mettiamo i bastoni poi dopo mettiamo la gobblestone e facciamo il nostro piccone nuovo perfetto perfetto andiamo ok ragazzi non noto per niente piacere che ci sono dei mob quindi io adesso direi di mettere delle torce prima di cose sgradevoli che quasi spawnano però sbrighiamoci a prendere ferro che dovremo tornare su adesso di sicuro mi colpiscono prima che finisco io già lo so quindi adesso torniamo su e prendiamo delle torce per ora di questo ferro ce ne accontentiamo per questo episodio diciamo che può bastare tanto siamo praticamente all'inizio della serie quindi un po' di ferro fa comodo ma ne basta poco quindi adesso mettiamo il ferro a cocere prima cosa sì con la gobblestone con la gobblestone giustissimo ecco giusto giusto e intanto andiamo a mettere delle torce ne ho 8 speriamo bastino ok oltretutto con questa shaders praticamente le torce già fanno a luce se le tieni in mano però è una cagata perché ovviamente i mob se ne fottono e quindi il problema è che non puoi minare i mob con una torcia quella è la cosa brutta quindi noto con piacere che ci stanno altri minerali meno male ci sta pure il carbone qui mettiamo una torcia a cazzo pure qua intanto l'importante è il piazzare più torce possibili ho soltanto paura che i ranni possano scavalcare queste barriere che ho fatto qui non era di due perché ci stava una montagnetta dall'altra parte cioè ne piazzo proprio tre alla popofiero a caso a tug life proprio giusto per mettere roba a cazzo qui qui è buio sono un grande ovviamente devo mettere una torcia qua ok meglio di niente possiamo tornare alla base e adesso andremo a portare delle modifiche comunque qui non ho chiuso quindi sono un coglione poi magari off camera lo chiudo allora ragazzi il mio progetto sarebbe quello di fare prima di tutto un piano di sopra che magari facciamo una stanza invece di buttare il letto qui all'ingresso e seconda cosa ovviamente prendere della legna perché se no non facciamo proprio un cazzo quindi andiamo a prendere un po' di legna ah altra cosa che vi voglio dire ragazzi molto importante avevo detto che saremmo andati ad esplorare queste zone qua quindi voi potete pensare ma che cazzo vai a modificare la casa se tanto poi dopo ci trasferiamo da quelle parti invece ho detto una grande cazzata perché off camera sono andato a controllare qui che cazzo c'era e cosa ho trovato lì ho trovato delle montagne con la neve qua ho trovato una foresta poi qui altre montagne lì una grande pianura e poi dopo una giungla quindi siamo già in mezzo a un miliardo di biomi quindi questo posto diciamo che è strategico se spandiamo se spandiamo la nostra casa e facciamo una cosa figa che è tipo una cosa enorme per tutto questo posto diventa una cosa figa magari poi dopo facciamo un tunnel un passaggio che ci porta pure da quella parte in mezzo a altri biomi quindi figo ragazzi siamo a posto qua sinceramente infatti la giungla già si vede lì perché è collegata a una pianura che sta qua quindi va bene io vado a prendere della legna lì che ci sta un'altra foresta intanto ecco ragazzi questa è la cosa che mi secca di più quando devo togliere la legna cioè che che per un blocco io non posso sollevarlo e quindi perdo tre ore per questa cagata così proprio alla fiero ma in una maniera esplosiva e ci sta un altro blocco poi è ancora più stronza come cosa ragazzi è ancora più stronza no questa è la peggio è la peggio cosa poi a volte non si può togliere la foglia e mi guardate e io la odio questa roba ok ragazzi abbiamo preso un bel po' di legna che non è tantissima comunque abbiamo preso un po' di assi da bete e un po' di assi di quercia quindi normali quindi io avrei un'idea di fare visto che di assi di quercia di assi di quercia abbiamo ne abbiamo dato uno stack 24 dire di fare tutta la struttura sui bordi e invece con questi 60 che adesso magari crafto pure questi altri due quindi 60 sono i 68 praticamente facciamo il tetto e il pavimento sperando che ci bastino poi dopo se non dovessero essere sufficienti ne prendiamo altri però vorrei di fare delle scale per ora a pioli tanto vanno pure bene facciamo una botola e poi dopo saliamo lì sopra quindi prima di tutto facciamo le scale a pioli quindi dobbiamo craftare prima degli stick porca troia come facciamo ragazzi che ci finisce tutto quanto io già lo sapevo vabbè penso che 3 ci basti no quindi vediamo si vabbè ci bastano per fortuna quindi qui adesso andiamo a rompere questo blocco qua anzi prendiamo l'ascia perché mazza ok e qui c'è un problema perché ci do ca misa fare allora direi che di fare una piccola cosa qua chiudiamo tutta tutta questa parete mettiamo un altro blocco e poi dopo facciamo un altro blocco di altezza magari e lo facciamo entrare quindi adesso cioè non avrete capito un cazzo però adesso blocco il video e vi faccio vedere eccoci qua ragazzi adesso che ho fatto più o meno quello che vi stavo cercando di spiegare facciamo una parete più o meno alta insomma quindi adesso facciamo così e facciamo una parete da questa parte non sarà fighissimo adesso metteremo un'altra scala una volta che si arriva in cima bisogna girare da quest'altra parte ecco più o meno così adesso andiamo un attimo a dormire perché sto facendo come cazzo quasi notte porca porca troia cioè io non è che posso posso decidere quando cazzo andare a dormire no non lo posso decidere eh no deve decidere il gioco deve decidere minecraft ma è notte porca puttana quando deve essere notte che cazzo eh già non si vede una minchia devo pure aspettare che si fa notte è notte va bene non vedo un cazzo equivale notte giusto no non è notte io continuo così cioè io devo dare un pugno a letto perché perché per dormire però anche se gli do un pugno lui non ne vuole proprio vedere ah ok perfetto bravo letto questa shaders è comunque un difetto anche anche quando è giorno dentro casa rimane sempre buio quindi magari nel prossimo video cambieremo shaders e magari metteremo pure una texture pack perché ho scoperto che si possono fare delle combinazioni con le texture pack e con le shaders che sono una figata e poi me ne faccio vedere una che mi piace nel prossimo episodio la metto sicuramente quindi allora facciamo un'altra scala a pioli perché ci serve fare un'altra scala a pioli non ci bastano sicuramente intanto però non li posso mettere perché prima devo fare altri stick quindi perfetto ok così si craftano e adesso li andiamo a mettere anche se ce ne serve soltanto uno perfetto allora si salirà più o meno così quindi non sarà proprio una cosa molto swag ma saliamo così cioè quando arriviamo in cima giriamo verso un lato da questa parte ci sarà la parete come previsto dovremo andare a prendere altra legna perché cosa abbiamo fatto noi coglioni che non abbiamo previsto queste cose anzi non noi coglioni io coglione sinceramente insomma abbiamo fatto le scale a pioli abbiamo fatto questo bordo e fancolizziamo tutta la legna che abbiamo preso quindi adesso alla tug life scendiamo così perché è proprio sto cazzo e andiamo a prendere altra legna ok ragazzi stavolta stavolta 40 porca troia se non bastano faccio una tettata da nocce non me ne frega niente anche se non so dove abita però riuscirò di sicuro a sapere dove abita adesso se non bastano veramente no scherzo mi cazzo ma proprio tanto allora saliamo 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 qua ho già messo un blocco proprio alla chi se ne frega ho cambiato visuale non so perché però va bene ci mancava un blocco per finire questo pezzo nocce sai cosa si aspetta questa notte ma cazzo sto parlando però veramente sto sclerando ma manco nel buco entro ma porca troia eh quante porca però sta troia porca miseria porca porca miseria la porca due porche che faranno amicizia perché li nomino troppo spesso c'è praticamente mi si era rotta l'ascia e quindi l'80% di questo stack è 12 lo spaccato a mano quindi se non basta mi girano un po' le palle no mi sembra ovvio quindi proprio cioè nocce non è che faccio un attentato ma proprio crepa adesso mi tocca mangiare la carne marcia che fa un brutto effetto infatti ho la fame tua madre brutto zombie è terroia lo vuoi capire adesso ci tocca andare al piano di sopra e mettere la legna guardate che se non basta non lo so non lo so quello che succede basta ragazzi dai la zodi e no e fa il mondo fa il mondo la mammina di nocce no 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 cazzo non ci sto porca no allora nei commenti scrivetemi se se sapete quello che stavo per dire porca la indovinate un po' vedete scrivetemelo e sono caduto senza volerlo e adesso andiamo a prendere altra legna che bello che divertimento e poi a mano nude bello stupendo che cazzo porca porca pecora capito oltretutto si sta pure facendo notte anzi si si è fatta notte però per questo gioco ovviamente non si è fatto ancora notte quindi oltretutto non vedo un cazzo e ho paura di cadere dentro uno di quei buchi e faccio una fine di merda quindi qua mi conviene tagliare perchè proprio non si vede ok ok io taglio un attimo perchè sennò potreste incazzare io taglio un istante ok dai ragazzi credo che ho trovato casa credo di aver proprio trovato casa io ho una paura che cado si casa è casa sicuramente ma ho una paura della merda che dove cazzo è successo no porco scheletro porco scheletro dove sei ci devi fanculizzare non mai sei gripato ma proprio nella maniera che esplode capito che cazzo ci mancava soltanto lo scheletro di merda davanti casa mi ha ammazzato che palle davanti casa e che cazzo c'è proprio la sfiga della merda che esplode proprio era qua davanti faceva il guardiano sto stronzo guarda ma che troione che quanti ne ho trovati 4 dai speriamo che bastano 16 guarda la tua madre no la madre è mignotta se non bastano io l'avviso l'avviso ma guarda guarda che si impalla il computer proprio adesso che palle è giusto così dai non basta non basta non basta non basta non basta non c'è sì 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 guarda che è seccato porca miseria sì oh mettiamo le torce ecco e guaià adesso metteremo qualche altra torcia tanto ne avevamo 20 quindi porca miseria mettiamo due altre due qua non sia altre due qui quindi le butterei tutte qua qui dentro per ora poi dopo magari le metteremo meglio faremo pure il vedro ma per ora ci accontentiamo perché è un piano di sopra fatto proprio a cazzo quindi per ora questo piano può bastare adesso io ci metterei un po' di roba come il letto e queste cose qua quindi no non lanciare la torcia prendila andiamo non so se posso farle a voglia mi ricordo che erano di pecore quindi di sicuro potremmo fare un letto magari pure matrimoniale ma proprio a cazzo così giusto per fare coglioni perfetto adesso li mettiamo qua ma poi dopo cambieremo il pavimento quindi direi ma pure qua facciamo dei comodini fatti bene quindi facciamo così e poi dopo sopra mettiamo questo fighissimo e poi magari togliamo queste e mettiamo una torcia qua e un'altra torcia non la possiamo mettere perché c'è la pressure plate quindi facciamo così mettiamo due torce qua so mettiamo due torce qua sopra perfetto quindi questo direi che si può pure togliere quindi mettiamo un paio di crafting table o qualcosa del genere e poi dopo da questa parte qui io direi di mettere un paio di chest o forse proprio qua vicino si direi qui quindi mettiamo qua la crafting la crafting poi dopo facciamo proprio qui un paio di chest non so se riesco a farne due si si ci riesco perfetto ok quindi una double chest uno e due e per ora ci sta magari se riusciamo a fare pure una fornace un paio di fornaci io le metterei qui per ora facciamo se ci riesco due fornaci se no una per ora una vabbè ci accontentiamo non è male tanto il piano di sopra l'abbiamo fatto e avevo messo a cuocere il ferro ragazzi mi ero scordato quindi adesso andiamo a vedere il ferro io come me di fare subito un secchio con il ferro che penso che sia la prima cosa da fare però io sono un coglione quindi l'ho fatto male stavo sprecando soltanto i pezzi di ferro tanto ne abbiamo ancora tre quindi è buono insomma non è male quindi andiamo a mettere il ferro sopra pure il secchio e poi dopo lasciamo tutto quanto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel like la casa sembra un castello una merda quindi mettiamo il vetro di sicuro quindi se il video vi è piaciuto mettete like scrivetemi assolutamente nei commenti scrivete tutto quello che vi passo per la testa e lo dico sempre vorrei mettere in terza persona ma si bugga conoscete però schicavoli tag life quindi assolutamente ragazzi non vi dovete perdere il video della JerryCraft 1 perché se no non ci capisco un cazzo di questo video io ve lo consiglio almeno quindi guardatelo e commentatemi e scrivimi pure in JerryCraft 1 che è stato tutto il viaggio per arrivare qua e ho spiegato alcune cose quindi iscrivetevi al canale metterò di sicuro qualche tasto per vedere il video precedente e bella a tutti ragazzi ciao